... ... ... ... ... Signore nostro Dio, che è veramente con sua nuova legge, proclamata alle due grandi loro, e regna di grazia al nome di tutti gli uomini, Dio di la vita all'eterno, per Cristo, nostro Maestro e Salvador. Egli da scegliere, donna e re, e ne ha rilassato, 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 e ne ha rilassato Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.